C'è Diego! Attivati! Attiva un numero Team e con la ricarica chiami e videochiami gratis fino a 500 minuti verso Team. Adriana, guarda che idea! Grande! Grazie a TDK e MamaSan hanno realizzato un grande sogno. Registra la tua musica su un cd TDK e invialo a RockTV, via Colico 36, 20-158 Milano. Potrai avere anche tu un videoclip professionale e in alta rotazione su RockTV. Jack Daniels e RockTV ti invitano al Jack Daniels Live Tour. La migliore musica alternative ti aspetta a Palermo, Lecce, Ferrara e Milano per quattro serate da non perdere. Giovedì 18 novembre al Planeto di Lecquie e Lecce ci saranno Sud South System e Negramaro. Hai una band emergente? Vuoi salire sul palco e suonare al Jack Daniels Live Tour? Visita il sito www.jacktiascolta.it e scopri come. La tua musica, falla ascoltare a Jack. Ogni essere vivente segue un percorso prestabilito. Ma ci sono confini che a volte la vita ti chiede di varcare. Io l'ho fatto. Il sabato sera del Rolling Stone è Rock The DJ. I personaggi della musica alternative in console per voi. E se vuoi essere anche tu protagonista nel locale ti aspetta a RockTV Box. Di la tua e potrai rivederti su RockTV. Rock The DJ ti aspetta tutti sabato sera a Rolling Stone di Milano. Il 20 novembre in console c'è l'ella dei Sette Vite. Udo Show irresistibile. Per loro niente è impossibile. Sono le superstar dell'NBA. La grande stagione del basket americano. NBA. Lunedì alle 17 e venerdì alle 14 e 30 su Sky Sport 2. Ritorna al RockTV Tour. La guida che ti porta sulla strada della migliore musica alternative italiana. Ti aspettiamo questo weekend con Malfunk, Morticia's Lovers, Gerson e Black Lilium. Il 19 novembre al Transylvania Live Reggio Emilia. E con Malfunk, Mellow Toy, Jade e SNP. Il 20 novembre al Sottosopra Rock Zone, Este, Padova. Dacci un taglio con le solite compilation. E nei negozi Heavy Rotation 2 con i migliori brani in onda su RockTV. Incubus, Iron Maiden, Korn, The Darkness, Muse, Linea 77, The Vines, Peaches, Distillers, The Servant, Classivo e molti altri. Heavy Rotation 2. Nel tuo stereo il meglio di RockTV ad un prezzo speciale. Il 20 novembre al Sottosopra Rock Zone, Este, Padova.